Ben ritornati con noi, buona serata cari telespettatori, come sempre i nostri appuntamenti con le interviste, diversi argomenti che affronteremo insieme per farvi compagnia, perché no, per questa volta farvi pensare anche ad altro. Non vi anticipo nulla con la nostra prima interlocutrice, lo scoprirete, prima come sempre cominciamo con la nostra rubrica con lo SPI CGL per parlare di... vediamolo insieme.